In attesa dei colpi di mercato prosegue la marcia di avvicinamento del Foggia, la sfida sul campo della Virtus Francavilla dopo la doppia seduta di ieri, oggi unica razione di lavoro svolta stamane sul sintetico della FIGC dove i rossoneri si alleneranno fino a venerdì, giorno in cui è programmata la rifinitura e le ultime prove in vista della gara contro i Brindisini. A Francavilla Fontana il Foggia punta a migliorare lo scorro esterno, finora la squadra di Gallo proprio lontano dallo Zaccheria ha fatto vedere le cose migliori, 15 punti conquistati in 11 gare, meglio lontano da casa, hanno fatto solo le prime tre in graduatoria Catanzaro, Crotone e Pescara. Le cose vanno decisamente peggio nel ruolino degli incontri casalinghi, lo Zaccheria è diventato terra di conquista e dinanzi al proprio pubblico il Foggia finora ha racimolato solamente 14 punti in 10 gare, peggio hanno fatto solo Fidelissandria, Viterbese e Turris. Numeri che non possono essere ignorati anche in considerazione del fatto che sulla strada di Di Pasquale e compagni c'è una Virtus che ha conquistato ben 23 punti dei 25 complessivi sul proprio campo. Oggi è intanto il giorno di Rutiense e Contec, i due difensori che rappresentano finora le uniche due operazioni condotte in entrata nella sessione invernale di calciomercato, presentazione nella sala stampa dello Zaccheria nel pomeriggio.